Nell'ambito delle attività programmate per il progetto sul bullismo in occasione della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, è stato programmato per domani, mercoledì 7 febbraio, un incontro sui pericoli della rete riservata agli alunni di seconda e terze classi del risultato comprensivo portella della ginestra di Vittorie. A parlare di questo tema saranno il capo della squadra mobile, dottor Antonino Ciavole, il spedagogista dell'ASP Giuseppe Raffa. Il progetto di cui è referente la professoressa Eliana Toraro è finalizzata a favorire i processi di inserimento nel gruppo e l'intreccio di relazioni tra gli alunni, oltre ad accrescere la rarete dei rapporti affinché avvengono in modo positivo e allo scopo di prevenire episodi di prepotenza e vittimismo. A questo proposito si mira quindi a potenziare negli alunni una crescita sociale attraverso un approccio ai problemi comportamentali, il cui fine è promuovere una riflessione sulle dinamiche relazionali, sui segnali di disagio e sullo star bene a scuola.